Poteva finire in tragedia la rapina mano armata verificatasi nella serata di martedì sul carso triestino, a pochi metri dal complesso girando la borgo grotta gigante. Poco dopo le 21, tre uomini con il volto coperto da sciarpe sono entrati nel primo piano di una villa, arrampicandosi sul terrazzo del pian terreno. Armati di pistola hanno prima minacciato e ferito la proprietaria, una signora di 72 anni, allertata dai rumori. Poi si sono accaniti contro il marito, 78enne, intento a guardare la televisione in una stanza attigua. L'uomo è stato prima minacciato con una pistola, poi con un vicile che lui, cacciatore per passione, custodiva in casa. Dall'arma è partito uno sparo che, solo per miracolo, non ha colpito l'uomo ma un mobile. Guardavo la televisione sul primo piano sopra, forse anche mi ero un po' appisolato e ho sentito delle urla, tipo di mia moglie, femminili. Allora mi sono alzato, in quel momento qualcuno è saltato su di me, mi hanno bloccato, buttati per terra, hanno bloccato le mani, con la testa sul tappeto. Urlavo, urlavo, ma sempre meno perché mi chiudevano la bocca. E dopo di questo hanno cominciato a bastonarmi, chiedendo dei soldi, soldi e che gli faccio vedere la cassaforte. Momenti indelebili di alta tensione per la signora, che ricorda così quanto accaduto. In quel momento sei in trans, perché quando ti si presenta una persona così in casa tua, resti molto male. Ero aggredita, mi aveva subito per i capelli, mi ha dato pugni sulla testa, dopo mi ha legato le mani e le gambe, mi ha cominciato con le gambe bastonare su costole, così che appena respiro, loro cominciavano a parlare in slavo. I due anziani e ricorse alle cure sanitarie guariranno in dieci giorni, rubati circa 400 euro in contanti e gioielli. Sul caso indaga la squadra mobile di Trieste. I tre banditi, probabilmente di origine serba, descritti come giovani, alti e possenti, secondo alcune testimonianze sarebbero scappati con un'audi bianca posteggiata poco distante dal parco della villa. E ho sentito delle urla disumane di una donna che venivano dalla villa di fronte a casa mia. Ho visto uscire dal bosco una persona con un sacco nero in mano e dirigersi velocemente verso l'uscita della stradina. Poi, seguendolo con il cane, ho visto che è salito su una macchina bianca velocemente ed è andato via, si è diretto verso Morupino. Un episodio sconcertante e violento, mai verificato in zona, che lascia sgomenti residenti. Non ho nessuna paura, non ho problemi, abbiamo sistemi di allarme, siamo anche ben attrezzati contro questa gente se viene dentro a casa mia, perché viene dentro ma vanno via con la scatola di legno.